Ti chiami Deborah quindi? Deborah, sei per caso caduta dall'albero? Ti hanno fatto cadere dall'albero, Deborah? Mamma mia! Perché ti hanno fatto cadere dall'albero? Senti, si sta abbastando la temperatura. Mi illumini il K2, per favore, Deborah? Illumina il K2 che ho in mano, per favore, Deborah. Sei qui sta dove c'è? Sei una ragazzina? Uh, guarda com'è, ci illumina! Chi ti ha fatto cadere? Chi ti ha fatto cadere il padre? Devi farlo scendere. Ma sei caduta da sola? Il padre, ti ha fatto cadere. Io sei stato il padre. Qualcuno ti ha spinta? Qualcuno ti ha spinta? Ma tu sei qua vicino a noi o quindi? No, vicino a te. Sei vicino a me? Siamo. Siete? Quindi, c'è qui il tuo padre? Adesso siamo. Debora, sei vicino a tuo padre? Come si chiama tuo padre? Ti picchiamo a tuo padre, Debora? Sento, cosa devo sentire? Oltre a me, c'è qualcun altro? C'è la temperatura bassissima, ragazzi. Non solo perché fa freddo. Debora, tu sei morta qua, sotto a quest'albero? Chi ti ha fatto cadere? È caduta da sola? Ti sei spezzato all'osso del collo? Sì. Stavi giocando? Stavi giocando? Sentiamo tante voci. Chi siete? Vedete la temperatura? Però è di nuovo stabile. Chissà che ce la sono andate. Noi andiamo via. Ciao. Dove che vada via? Sì. Sì. Ciao. Ciao. Ciao, ciao.